I film di oggi di Cummings on Television. Alle 16, Francesco Sbano, già autore di La musica della mafia, firma un documentario inchiesta sull'andrangheta calabrese, Uomini d'onore. In Calabria ho stato un esiste. Alle 21, un tassista e la star del Buenavista Social Club, Pio Leiva, decidono di costituire un gruppo con i migliori musicisti di Cuba, nella docufiction Musica Cubana, prodotto da Bim Benders. A seguire, sei produttori sponsorizzano sei cortometraggi di giovani registi italiani vincitori del concorso Cinecittà Digital 2000, in Sei come sei. Che comunque non esiste alcun inferno, se non per me. Musica Insistente